Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con questa accusa i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Frosinone hanno arrestato un ventenne di nazionalità albanese ma domiciliato nel capoluogo Ciociaro perché colto in flagranza di reato. Un'operazione che rientra in quelle di contrasto allo spaccio di droga coordinate dal comando provinciale agli ordini del colonnello Fabio Cagnazzo. I carabinieri nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento hanno bloccato il giovane mentre era intento a nascondere all'interno di una scatola di derivazione elettrica nell'androne di una palazzina di via Bellini nei pressi della stazione ferroviaria un involucro contenente oltre 6 grammi di cocaina già suddivisa in 15 dosi e già pronte per lo spaccio. Il 22enne al termine dell'udienza di convalida dell'arresto tenutasi sempre nel primo pomeriggio di ieri verso il tribunale di Frosinone dopo aver patteggiato la pena è stato condannato a quattro mesi di reclusione e al pagamento di 4.000 euro di multa con l'applicazione del divieto di dimora nel comune di Frosinone. Sempre i carabinieri questa volta a Cassino hanno denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica un operaio di 42 anni per furto ed una commerciante di 26 per ricettazione entrambi sono residenti a Cervaro. I militari a seguito della denuncia di furto per un ammanco di merce dal deposito di un'azienda che si occupa della commercializzazione di surgelati all'ingrosso hanno individuato il 42enne quale autore del furto di un intero bancale di surgelati del valore di circa mille euro prelevati dai frigoriferi del deposito principale della società sita frascati dove in qualità di operaio dipendente era stato comandato per il carico del giorno. Una parte della merce trafugata dall'uomo consistente in 43 confezioni di surgelati di un noto marchio è stata ritrovata successivamente dal personale operante all'interno dei frigoriferi di una rivendita alimentare gestita dalla giovane di Cervaro a cui l'operaio aveva venduto sotto costo i surgelati. I prodotti rinvenuti per un valore di 200 euro circa sono stati sottoposti a sequestro in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.